C'è orgoglio di aver riportato una squadra italiana dopo due anni nella Final Four di Eurolega, ma c'è anche voglia di ottenere un grande risultato? Il grande risultato l'abbiamo ottenuto, perché credo che entrare alle Final Four dalla porta non principale, ma di più, cioè giocando in un girone durissimo la prima fase, nettamente il più difficile e più duro dell'Eurolega, che probabilmente darà tre delle quattro squadre alle Final Four, eliminando i campioni d'Europa del Panathinaikos, e quindi essere qui con squadra, adesso vedremo chi verrà eliminato, ma sarà o l'Olimpia Cossi o il Sesca, o il Maccabi o il Barcellona, Panathinaikos e Madrid, per dirne sono due, sono già a casa, credo il risultato sia già straordinario. Adesso possiamo andare ancora a guadagnarci veramente qualcosa di impensabile, ma già era impensabile questo per molti, perché nessuno avrebbe scommesso un Euro d'estate, per di più senza Kaukenas, quindi godiamoci una festa del basket, momenti straordinari come sono le Final Four, ed è giusto che ai miei giocatori questo venga riconosciuto e venga dato un punto. Poi è chiaro un punto fermo per riconoscere questo. Dopodiché è ovvio che come proviamo a vincere ogni volta, anche in campionato, figurarsi se non ci proviamo lì. Grazie, bocca al lugo.